Musica Buonasera e ben ritrovati in questa nostra edizione notturna del telegiornale. L'apriamo innanzitutto con uno sguardo sugli altri paesi all'estero, in particolare su Mosca, perché caos, paura e morti ha causato una sparatoria avvenuta proprio nel centro di Mosca, presso la sede del Palazzo dei Servizi di Sicurezza Russi. Nelle scorse ore la conferenza stampa di fine anno del presidente Vladimir Putin era finita da poco, quando si è diffusa la notizia di spari nell'area di Ulubianca, dove appunto si trova il Palazzo dei Servizi Eredi del KGB. Nell'immediato i media russi avevano parlato di tre morti almeno, ma col passare delle ore il quadro ufficiale è cambiato, soprattutto per quanto riguarda la dinamica dell'attacco. Erte, l'emittente finanziata dal Cremlino, Ripilo Galanza, aveva infatti inizialmente parlato di tre assalitori, una circostanza poi confermata da un dispaccio di un'agenzia che fa capo al comune di Mosca. Era stato spiegato che tre uomini non identificati avevano fatto irruzione nell'edificio e aperto il fuoco nella sala d'ingresso al pubblico. Nello scambio con la guardia della reception era stato dunque inizialmente spiegato due aggressori erano stati uccisi mentre uno di loro era corso fuori in strada dove aveva continuato a sparare uccidendo un vigile di guardia e poi era stato neutralizzato a sua volta grazie all'intervento delle forze speciali. L'agenzia Mosca, quella che fa capo al comune di Mosca, aveva attribuito le informazioni ai servizi segreti russi. Poco dopo però lo stesso FSB ha smentito la storia dei tre assalitori precisando che a sparare è stato un uomo solo e che non è penetrato nell'edificio. L'ultimo bilancio ufficiale parla di almeno un morto e cinque feriti, restano dunque tanti aspetti da chiarire e appunto nelle prossime ore ovviamente ci saranno aggiornamenti in merito. Parliamo anche delle via libera da parte della Camera statunitense all'impeachment di Donald Trump che ha scatenato l'ira del Presidente statunitense e che accusa i democratici di voler annullare le elezioni con un abuso di potere. Ma si dice non preoccupato perché il Senato, dove si svolgerà il secondo atto, i repubblicani hanno la maggioranza. La speaker della Camera Pelosi invoca un giusto processo, Putin è sceso in campo a favore di Trump e parla di accuse inventate. Ritornando all'Italia, è atteso per sabato sul tavolo del Consiglio dei Ministri il decreto mille proroghe nel quale dovrebbe trovare spazio anche il rinvio della riforma delle intercettazioni. Nella bozza le richieste di slittamento di scadenze passano da una cinquantina a quasi cento dal rinvio del mercato libero dell'energia al 2022 alla proroga dello stato di emergenza per Genova. Slitta anche l'aumento dei pedaggi autostradali. Acque agitate per quanto riguarda la politica fra i partiti, fra l'ipotesi di referendum sul taglio ai parlamentari e la riforma elettorale. Scontro anche sulla manovra economica con le opposizioni che annunciano il ricorso alla consulta perché con la fiducia, dicono, è stata preclusa la discussione in Parlamento. Tensione sulla richiesta di autorizzazione a procedere per Salvini sul caso Gregoretti da parte del Tribunale dei Ministri di Catania, secondo il quale il sicurezza bis non vale per le navi militari. La giunta per le immunità del Senato voterà il 20 gennaio. Il Movimento 5 Stelle ha affermato che non si trattò di atto politico del governo ma di propaganda di Salvini e Palazzo Chigi ha fatto sapere che la questione non fu mai discussa in Consiglio dei Ministri. Ma la Lega insiste, ci furono, afferma, interlocuzioni tra Viminale, Presidenza del Consiglio, Ministro degli Esteri e organismi comunitari. La Sea Watch dal canto suo esulta, vinto l'appello, la sua nave tornerà in mare. I carabinieri hanno arrestato più di 300 persone in una maxi-operazione contro le organizzazioni di Ndrangheta attive nel Vibonese facendo capo alla cosca Mancuso di Limbadi. In tutto gli indagati sono 416, fra loro molti politici, avvocati, commercialisti, funzionari, infederi dello Stato e massoni, appunto, fra gli arrestati della maxi-operazione. Dopo 5 anni di carcere, Salvatore Buzzi, una delle figure chiave delle indagini Mondo di Mezzo, ha ottenuto gli arresti domiciliari. Lo ha deciso la Corte di Appello di Roma, accogliendo l'istanza presentata dai suoi difensori. Il RAS delle cooperative romane aveva chiesto la revoca o la sostituzione della misura della detenzione in carcere dopo che la Cassazione, il 22 ottobre scorso, aveva fatto cadere l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso. Veniamo al Friuli Venezia Giulia. L'Arcivescovo di Udine, Monsignor Andrea Bruno Mazzocato, ha incontrato oggi la stampa per i consueti auguri di Natale. Il Friulano fa poco rumore, ma le difficoltà ci sono, ha detto il Vescovo. C'è bisogno di più solidarietà di quanto appare. E poi anche un passaggio sul presepe, un bel modo per mantenere vive le radici della nostra fede. Allora sentiamo le parole di Monsignor Andrea Bruno Mazzocato. Qual è l'augurio che lei vuole inviare alla comunità per queste feste? Mi ha molto colpito la lettera che Papa Francesco ha scritto sul significato e il valore del presepio, che l'ha firmata proprio a Greccio poco tempo fa, dove San Francesco nel 1223 ha inventato il presepio, e per proprio rilanciare la ricchezza di questo modo popolare, però potremmo dire insieme geniali, di rappresentare la nascita di Gesù. Quindi il mio messaggio è proprio che, attirati anche dalla lettera del Papa, che è breve, tutti possono leggere, e qui ci accostiamo al presepio per accogliere il suo messaggio. E in particolare, il Papa dice, il presepio parla di Gesù, quindi parla della nostra fede, e parla in modo, voglio dire, che passa attraverso gli occhi, le orecchie, entra nella fantasia, nell'immaginazione, finché si imprime nel cuore. Ecco, credo che sia un bel modo per mantenere vive le radici della nostra fede. Ecco, e poi un secondo aspetto che mi pare molto bello è che dice, non si può andare a Gesù nel presepio se non in compagnia dei pastori. Si parla ancora anche nel nostro territorio delle crisi legate ad aziende che chiudono, c'è l'esempio della Safilo, di cui si è parlato tanto recentemente, a queste persone che appunto rischiano di non avere più un posto di lavoro a brevissimo, cosa vuole dire? C'è bisogno di solidarietà, più di quello che amare può apparire, diciamo, dal rumore pubblico, perché magari il friulano fa poco rumore, però le difficoltà ci sono. E allora alle persone interessate, posso dire solo che non si abbattano, che trovino anche nella fede, ecco, una forza in più, una speranza in più, perché così si lotta nella vita. E a proposito delle difficoltà nel mondo del lavoro ed economico, terza battuta d'arresto consecutiva per l'industria manifatturiera della provincia di Udine. Secondo le elaborazioni dell'Ufficio Studi appunto di Confindustria Udine sui risultati dell'indagine trimestrale sul comparto provinciale, nel terzo trimestre 2019 si è ulteriormente aggravato il rallentamento del ciclo economico. L'indicatore della produzione industriale per le imprese manifatturieri, infatti, è sceso nel trimestre luglio-settembre del 3,7% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno e segue il calo del meno 2,7% del secondo trimestre e del meno 0,9% registrato nel primo trimestre. Prosegue quindi la diminuzione senza interruzioni in atto dal terzo trimestre 2017. L'indice della produzione a fine anno chiuderà con una variazione mediano a negativa e questo non accadeva dal 2013. La presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, afferma cos'altro ci vuole per capire che bisogna urgentemente cambiare rotta. E per quanto riguarda sempre il tema del lavoro, la strategia industriale deve essere una priorità comune a tutto il Paese e, al contrario, abbiamo assistito ogni giorno all'apertura di nuove crisi e Saffilo è una di queste. Quanto ha affermato oggi a Cividale del Friuli la segretaria generale nazionale della CISL, Anna Maria Furlan, parlando proprio con i giornalisti che dunque le hanno chiesto anche una valutazione sulla crisi Saffilo. E a proposito della CISL, appunto a Cividale rappresenta anche il segretario regionale Monticco, tra i punti fatti presenti si parla di 45.000 disoccupati cui vanno aggiunte le 10.000 persone impiegate in aziende in crisi che hanno attivato procedure come la cassa integrazione o ferie forzate e 35.000 giovani che non studiano, ne lavorano e rimangono socialmente esclusi. E quindi, quanto ha detto il segretario regionale della CISL Monticco al Consiglio Generale del Sindacato, con la segretaria anche Anna Maria Furlan. In sostanza, è stato evidenziato, sono circa 90.000 le persone che in regione scontano le varie crisi di mercato e soprattutto si afferma l'inerzia di una politica incapace di immaginare e realizzare strategie industriali concrete e di prospettiva. Spostiamoci al centro Balducci di Zuliano, dove oggi c'è stata la presentazione della consueta lettera di Natale, sottoscritta dai 13 sacerdoti della nostra regione soprannominati i preti di frontiera. Promuovono i giovani, il loro entusiasmo, bocciano questi preti invece la regione per l'apertura del CPR di Gradisca e poi sostegno incondizionato a Papa Francesco per l'abolizione del segreto pontificio sui casi di pedofilia e per la difesa dell'accoglienza ai migranti. La nostra Luciani Delfonso ha sentito Don Di Piazza. E allora vediamo. Nella vostra lettera si parla soprattutto di giovani, di casi come quello di Greta per l'ambiente, ma anche delle sardine per quanto riguarda la politica. Perché? Perché noi, guardando, osservando la realtà, vediamo, come tutti credo dovrebbero vedere, che i segni positivi sono soprattutto derivanti dal protagonismo positivo dei giovani. Greta, questa piccola ragazza svedese, ha dato il via a una mobilitazione planetaria straordinaria rispetto a una questione che vive una situazione drammatica, di urgenza drammatica, che è quella dell'ambiente. Il fenomeno delle sardine è un fenomeno che, secondo noi, riempie le piazze perché riempie un vuoto. Un vuoto di partecipazione. E quello che colpisce anche personalmente a me di questo movimento è che sono presenti con i loro corpi. Cioè uno è presente con il suo corpo, con il suo volto e dice ci siamo. E non si contrappone sul medesimo livello di coloro che, di fatti, loro criticano. No, con un linguaggio non violento. Una bacchettata invece alla regione per quanto sta succedendo a Gorizia. Sì, questa apertura di questo luogo di contenimento per l'espulsione di migranti, io credo che, come par che sia per ora l'unico, forse un altro in Italia. Solidarietà infine per Papa Francesco sotto attacco quest'anno. Certo, lo diciamo, andrebbe gridato, siamo vicini a Papa Francesco, andrebbe gridato nelle chiese anche. Noi siamo con Papa Francesco perché, dicendo questo, siamo con il Vangelo, con il Concilio. Papa Francesco che ha dato una svolta, prima che operativa, anche l'altro ieri, con questo incisivo provvedimento rispetto alla pedofilia. Papa Francesco che ha posto Dio nella storia umana come il Dio misericordia, Dio accogliente. Parliamo ora di sanità perché ogni anno in regione si registrano 800 nuovi casi di tumore alla prostata. Oltre 10.000 sono gli uomini in cura per questo tipo di patologia, una patologia di cui si è parlato oggi presso l'ospedale a Udine durante la presentazione del percorso certificato dell'azienda sanitaria proprio per la diagnosi e la cura di questo tumore. Allora, vediamo. Professore, qual è la situazione in Friuli Venezia, Giulia? Che cosa riscontrate qui nell'ospedale di Udine? Per quanto attiene alla patologia oggetto dell'evento di oggi, il tumore della prostata, la situazione è in generale sovrapponibile a quella nazionale. Abbiamo di fronte una neoplasia che è la più frequente o più o meno, se la gioca tra il primo e il secondo posto, tra il sesso maschile. Questo molto spesso fa paura, perché? Perché l'idea del paziente di andare incontro ad una diagnosi di neoplasia, di tumore, di cancro, queste parole che sono molto importanti e molto pesanti, alla fine può portare molto spesso a una sensazione di disagio ovviamente del paziente, di paura e forse ad allontanarsi anche dalla struttura sanitaria stessa. Invece, grazie alla definizione di questo PDTA, cioè di un percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale, l'ospedale di Udine riesce a fornire un percorso che sia certificato, definito, in maniera da migliorare quanto più possibile i risultati per il paziente stesso. Sono pazienti che molto spesso riescono a risolvere il problema e a superare quindi questa che diventa solo una tappa della loro vita e non una tappa definitiva e terminale. Per fortuna l'ospedale di Udine ha a disposizione degli strumenti che sono estremamente all'avanguardia. Parlo adesso dell'urologia di cui mi occupo, c'è la fortuna di avere la chirurgia robotica, quindi possiamo offrire interventi di rimozione e asportazione completa della ghiandola prostatica in caso appunto di neoplasia, sfruttando questa tecnologia che impatta molto di meno sulla qualità di vita del paziente. è una terapia cosiddetta mini-invasiva, una chirurgia che quindi può permettere al paziente nella maggior parte dei casi di ritornare a casa a distanza di pochi giorni dall'intervento, quasi ore, e quindi di riprendere la sua attività. Quindi un impatto minore sulla vita stessa del paziente che deve essere fatto conoscere ai pazienti stessi in modo da eliminare questa grossa componente di ansia che molto spesso è associata alla diagnosi di neoplasia. Si spara accidentalmente al piede sinistro, ma ai medici racconta di essere in corso in un incidente domestico e di essersi ferito con un vetro caduto gli addosso. Un signore di Magnago, classe 1947, è stato denunciato dai carabinieri per falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico. Il fatto risale allo scorso 24 novembre. Il racconto dell'uomo non aveva convinto i medici che avevano incalzato il paziente che alla fine aveva ammesso dunque che il giorno precedente, nel corso di una battuta di caccia per l'asperità del terreno, incautamente, gli era partito un colpo di fucile colpendolo al piede. L'uomo è stato sottoposto a intervento chirurgico che si è chiuso con successo. Vittorio Sgarbi è stato oggi l'ospite d'onore dell'inaugurazione delle carceri del Castello di Gemona che attualmente ospitano la mostra Il Friuli ai tempi di Leonardo. Nell'occasione il critico e storico dell'arte ha dato un suo suggerimento per il futuro utilizzo dello spazio espositivo e ha anche criticato pesantemente il divieto della soprintendenza di esporre le opere di Pomponio a Malteo provenienti dalla distrutta chiesa di San Giovanni in Brolo. La sua opinione su questo restauro delle carceri del Castello e su questa mostra? Il restauro è un restauro corretto con una finalità che è quella espositiva. Quindi gli ambienti sono predisposti per esporre come in questo caso una mostra storica ma anche legata a dei reperti, a degli oggetti, a dei libri, a dei quadri. Una volta fatta questa mostra Gemona potrebbe avere una memoria storica che dal Medioevo e prima ancora ovviamente fino al terremoto può meritare diverse mostre anche la vostra fotografica che faccia rivedere potrebbe essere interessante gli edifici prima e dopo il terremoto. Mi chiedeva il sindaco il problema è quale possa essere una destinazione stabile e con una cadenza annuale per esempio di una mostra espositiva nel periodo che va dalla tarda a primavera alla fine dell'estate. E ho detto potrebbe essere un luogo l'idea di fare un centro di fotografia o trasferire qui il museo il sindaco se vorrà chiedermi qualche parere o qualche proposta sarò lieto di darla. Certamente questo è uno spazio espositivo non è un restauro evocativo quindi tutto è predisposto compresa l'ottima climatizzazione superiore a quella dei depositi del museo in cui le opere che sono là per esempio raccolte possono venire qui utilmente e con la soddisfazione piena di ogni sovrintendenza che intenda la tutela come suo primo obiettivo. Quella sovrintendenza le intende farsi sentire a proposito di questi depositi? No, intendo che la sovrintendenza non è una soprepotenza cioè la prepotenza e l'arbitrio sono intollerabili cioè vanno fatte cose condivise il proprietario del bene ha la gran parte dei diritti e se non crea situazioni peggiorative per le opere deve essere assistito e non contrastato. La presenza dell'opera di Cimano Colignano che è la più importante opera benché molto restaurata indica che se un'opera può essere esposta possono essere esposte anche le altre tre o quattro o cinque delle altre che sono state invece bloccate in un deposito non potendo si espostare neanche dal deposito rispetto alle sale cioè una cosa una specie di follia di arbitrio una come dire un decreto ingiuntivo una prepotenza che un sovrintendente non si può permettere deve avere rispetto delle comunità e fare quello che gli è consentito e non quello che diventa un capriccio autoritario intollerabile. E da Gemona spostiamoci all'aeroporto militare di Rivolto dove nella serata è stata presentata la formazione acrobatica 2020 appunto delle frecce tricolori quest'anno il 2020 è stato fatto presente il prossimo anno sarà un anno molto importante ricorrerà infatti la sessantesima stagione acrobatica ci sarà anche una tappa del Giro d'Italia che partirà proprio dalla base di Rivolto un fatto eccezionale per la storia del Giro d'Italia appunto la partenza da una base militare rispetto alla formazione per il nuovo anno ci sono state alcune conferme alcuni cambi di posizione anche due esordi tra le conferme quella del capo formazione il maggiore Stefano Witte poi quella del solista Massimiliano Salvatore tra i due esordi anche quella del friulano Oscar del Do classe 87 vediamo intanto le parole del comandante delle frecce tricolori comandante dunque quali le principali novità per la formazione acrobatica del nuovo anno beh la novità innanzitutto sono i due nuovi piloti che entreranno a far parte della formazione acrobatica 2020 ci sono dei cambi posizione all'interno della formazione ma non solo quello oggi scopriremo quelle che sono le novità anche della stagione acrobatica la stagione acrobatica che partirà proprio con un evento importante il 24 maggio con la partenza di una tappa del Giro d'Italia prima volta che accade in una base militare un evento importantissimo presenteremo in via ufficiale anche l'opuscolo che rappresenterà le due tappe friulane quella sarà la volata usiamo un termine ciclistico che ci porterà fino all'evento importante più importante per noi è il sessantesimo anniversario delle frecce tricolori che si festeggeremo qui a rivolto il 19-20 settembre 2020 una grande manifestazione aperta a tutti i grandi appassionati ovviamente di questa eccellenza italiana noi ovviamente speriamo in un flusso di pubblico massimo cerchiamo di fare di rendere partecipi tutti gli italiani ma non solo chi vorrà raggiungerci perché ci saranno non solo le frecce tricolori non ci saranno solo velivoli militari dell'aeronautica militare ci saranno velivoli anche delle altre pattuglie estere quindi sarà un'occasione per ritrovare il volo acrobatico qui a rivolto rispetto ai nuovi arrivi abbiamo il capitano Oscar del Do che entrerà nella nuova posizione di Poni 7 il capitano Simone Fanfarillo che sarà il nuovo Poni 9 della formazione uno è Friulano di Martignacco il capitano del Do e il capitano Fanfarillo invece è Laziale le fanno tutti questa domanda quando ci saranno anche una pilota donna fino a poco tempo fa nelle frecce tricolori c'erano due donne una responsabile delle pubbliche relazioni è un ufficiale tecnico responsabile appunto della parte tecnica delle frecce tricolori ovviamente non c'è un limite per diventare uno dei piloti delle frecce tricolori nell'aeronautica è aperto ovviamente i piloti in aeronautica sono sia donna che uomo e solo per un fatto statistico essendo un po' meno ancora non sono arrivate quelle frecce tricolori sicuramente ci sarà occasione per vederle volare con i nostri velicoli ultima cosa comandante nel nuovo anno sono previste nuove figure acrobatiche? quest'anno noi cerchiamo di mantenere la tradizione attraverso il nostro volo acrobatico ripercorriamo quella che è la tradizione ormai di 59 di 60 stagioni delle frecce tricolori cerchiamo di farlo al meglio anche per questa stagione 2020 sentiamo dunque le parole di uno dei due piloti esordienti delle frecce tricolori il friulano dunque Oscar del Do classe 87 nato a San Daniele del Friuli ma cresciuto a Torreana di Martignacco tra l'altro proprio ieri è diventato papà dunque doppie congratulazioni sentiamo un esordio che corona anni di sacrifici sì anni di sacrifici che iniziano ovviamente entrando in aeronautica militare perché noi stiamo qui a rappresentare tutti i nostri colleghi dell'aeronautica tutta e il mio percorso nello specifico è passato tramite l'Accademia quindi la formazione universitaria che dà anche l'Accademia di Pozzuoli per poi diventare pilota con il velivolo MX a Estrana al 132esimo gruppo e avere la fortuna di venire qui a rappresentare la nostra forza armata l'aeronautica con le frecce tricolori da quest'anno una doppia emozione vivendo appunto il fatto di essere un pilota delle frecce tricolori proprio qua nel suo Friuli sì sicuramente essere a casa è magari un valore aggiunto è sicuramente un sogno che mi ha aiutato mi ha spinto a entrare in aeronautica questo coronarlo è sicuramente la ciliegina sulla torta adesso un po' di riposo poi i prossimi impegni quali saranno? i prossimi impegni in realtà a breve proprio la prossima domenica abbiamo il sorvolo sull'Alta Badia che va a concludere la stagione 2019 per poi iniziare la stagione 2020 con il prossimo anno ovviamente quando non siamo in manifestazione qui a casa facciamo l'addestramento che è fondamentale per noi perché ci permette di mantenere la nostra proficiency si può dire la nostra capacità di esibirci al meglio delle nostre possibilità per così dire tutti i giovanissimi che sperano in un futuro come il suo che cosa consigli passione profissionalità e ovviamente non demordere la grinta che aiuta in ogni situazione dalle frecce tricolori passiamo ora all'udinese perché non c'è alternativa alla vittoria contro il Cagliari i bianconieri devono rimettere in sesto infatti la classifica e sabato la Dacia Arena di fronte al proprio pubblico non possono sbagliare Gotti può rilanciare subito Sema pienamente recuperato mentre negli altri reparti non dovrebbero esserci grosse variazioni con la carta Pussetto pronta a essere giocata a gara in corso alternative non ce ne sono servono i tre punti sabato contro il Cagliari ad un udinese che necessita di rialzarsi prontamente in classifica la gara della Dacia Arena offre poche alternative i bianconeri chiamati più che mai ad una reazione dopo la sconfitta contro la Juventus che ha peggiorato la situazione di classifica da qui alla fine del girone d'andata servirà a capitalizzare al massimo entrambe le gare casalinghe a partire da quella contro i Sardi squadra sì forte ed ostica ma che in trasferta non può e non deve intimorire i bianconeri Gotti anche quest'oggi ha potuto lavorare con tutto il gruppo ad eccezione di Samir operato ieri al menisco e dunque può studiare nel dettaglio situazioni tattiche diverse avendo un ventaglio di scelte importanti a disposizione Ken Sema rientrato ieri con i compagni e anche oggi ha svolto tutta la seduta in gruppo e dunque si candida a riprendersi la titolarità sulla corsia di sinistra consentendo a Larsen di tornare sulla sua abituale fascia di competenza per il resto il mister potrebbe riconfermare la quasi totalità della formazione vista contro Napoli e Juventus certo di poter contare su una carta importante in più eventualmente anche a gare in corso come Nacio Pussetto che contro difensori centrali non velocissimi potrebbe formare un tandem tutto pepe con lasagna diverse quindi le opzioni sul tavolo con l'aspetto tattico che ancora una volta non potrà prescindere però dalla grinta e dalla capacità di aggriere la partita con lo spirito e l'atteggiamento giusti da questa sera la squadra in ritiro con un giorno d'anticipo proprio per preparare al meglio la sfida con la massima soglia di concentrazione domani poi alle 12 le parole di Gotti in conferenza stampa e alle 15 l'allenamento di rifinitura parliamo anche del Pordenone lanciatissimo in questo finale di girone d'andata domenica la Dacia Arena arriva all'Ascoli per consolidare il secondo posto e continuare a sognare occhio però ai marchigiani squadra forte e in ascesa i neroverdi ritroveranno in panchina Tesser reduce dalla squalifica ma dovranno rinunciare a Camporese fermato dal giudice sportivo guai a fermarsi sul più bello il Pordenone non vuol scendere più dalla giostra ed vuole regalarsi un Natale in orbita la vittoria di Cosenza è stata quella della maturità per la squadra di Tesser che domenica la Dacia Arena ritornerà a sedere in panchina dopo lo sconto di una giornata di squalifica di fronte ci sarà un Ascoli forte di nascesa squadra propositiva quella guidata da Paolo Zanetti tra i migliori giovani allenatori della categoria e che può vantare ottime individualità abbinando un mix di esperienza e gioventù i gol in avanti li garantisce Scamacca centramanti classe 99 dalla grandissima forza fisica arrivato già a quota 6 in campionato a completare il reparto un grande bomber di categoria come Ardemagni entrambi innescati dal talento e sregolatezza del serbo Ninkovic dal canto suo il Pordenone vuol continuare a mantenere blindato il fortino Dacia Arena per farlo non avrà a disposizione lo squalificato camporese e dunque Tesser dovrebbe riproporre Bassoli al centro della difesa insieme a Barison con Almici che reclama spazio sulla destra nonostante Vogliacco si sia ben comportato per il resto si dovrebbe rivedere Ciurri in avanti insieme a Strizzolo riduce dalla doppietta di Cosenza mentre in mediana scalpita Mazzocco al di là delle scelte però l'obiettivo è quello di dare un ultimo strappo prima della sosta per consolidare la posizione e perché no acquisire sempre più consapevolezza delle proprie concrete chance di essere protagonisti sino in fondo in questo campionato intanto comunque vada sarà un Natale dal sapore di Serie A e come sempre prima di salutarci diamo un occhio assieme alle principali notizie nelle prime pagine fino raggiunte in redazione abbiamo a disposizione per esempio il giornale che apre così Di Maio Ominicchio Vergogna Grillina ora leader del Movimento 5 Stelle a Coltella Salvini aveva detto processateci tutti e poi i migrati i giudici con Carola può tornare in mare continuiamo andiamo anche sul su Libero via Libera alla droga governo allucinato la Lega Denuncia i giallorossi pensano di riproporre la legalizzazione della cannabis leggera in un nuovo decreto spazzatura la rivista di Burioni avverte molti rischi giovani in pericolo e poi effetto plastic tax Coca-Cola minaccia di chiudere una fabbrica al sud continuiamo andiamo anche sulla verità leggiamo queste parole assieme Di Maio trova lavoro tassista del mare volta faccia grillino sull'immigrazione ancora caso Diciotti e caso Gregoretti sono identici mosse per ostacolare gli scafisti e ottenere la collaborazione dell'Europa ma il leader 5 stelle che aveva condiviso il primo blocco vuole che si processi Salvini per sequestro di persona per il secondo che farà Italia Viva e poi la Sea Watch torna in acqua e Bergoglio torna all'attacco non fermate quelle navi abbiamo a disposizione anche il foglio che in evidenza ha questo titolo in rosso It's the love idiot la legge idiota e leggiamo anche le parole scritte sotto impeachment o no ora gli americani sono soli davanti all'evidenza non ci sono più alibi né quello del riscatto della Rust Belt né del protezionismo e dell'America First né del sacrosanto rilassamento fiscale un gangster e un gangster punto così il foglio appunto in relazione a questa tematica vi ricordo però come sempre l'appuntamento con la nostra rassegna stampa per la cronaca e poi anche per lo sport che inizierà puntualmente alle 7 di mattina in cui potrete vedere ovviamente anche le aperture degli altri principali quotidiani e nazionali e della stampa locale grazie intanto per averci seguito fin qui noi vi salutiamo come sempre con accade oggi a cura di Guido Gomirato buona serata il 19 dicembre 1988 nasce a Tocopiglia in Cile Alexis Sanchez ex attaccante dell'udinese ma soprattutto uno dei più grandi calciatori di sempre che hanno indossato la maglia bianconera della squadra friulana Alexis Sanchez soprannominato il nino maraviglia ha cominciato a giocare nel Cobreloa e con questa squadra ha debuttato anche nel massimo campionato cileno per poi essere acquistato quando aveva nemmeno 18 anni dal udinese l'udinese poi lo ha prestato al Colo Colo un'altra squadra del massimo campionato cileno quindi ha tentato l'avventura sempre in prestito dall'udinese nel River Plate risultando determinanti per le fortune del club argentino che ha vinto il campionato di clausura quindi nel 2008 Sanchez è approdato all'udinese e ha dato un contributo importantissimo per la crescita della squadra inizialmente con Pasquale Marino allenatore poi con Francesco Guidolin assieme a Totò di Natale ha formato la miglior coppia offensiva del calcio italiano almeno nella stagione fantastica per l'udinese 2010 2011 il 27 febbraio 2011 Sanchez realizza a Palermo vittoria dell'udinese 7 a 0 una quaterna è il giocatore bianconero che in campionato almeno in una sola partita ha segnato più di tutti di Natale ha fatto anche lui quattro centri come del resto Maxi Lopez ma in Coppa Italia e per la cronaca nella storia dell'udinese il miglior realizzatore in una partita ufficiale è un certo Cherubino Comini che nel 1932 campionato DB segnò tutte le cinque reti rifilate dai bianconeri alla Vigevanese vittoria per 5 a 1 dell'udinese Sanchez dopo l'avventura con l'udinese è passato al Barcellona 39 gare poi nel 2014 è stato ceduto all'Arsenal 122 incontri in Premier 60 gol segnati quindi nel 2018 2019 ha giocato ma con scarsa fortuna nel Manchester United segnando tre reti soltanto in 32 partite per poi passare all'Inter ma con la formazione nerazzurra ha dovuto stiamo parlando del presente fare i conti con la cattiva sorte tant'è che il nazionale due mesi fa è rimasto vittima di un grave infortunio di gioco che lo tiene ancora lontano dai campi di calcio con l'Inter ha disputato tre gare e segnato una rete per quanto riguarda la nazionale cilena Sanchez detiene entrambi i record di presenze 132 di gol segnati 43 trai